Ciao a tutti e benvenuti su TechGaming In questo video non voglio parlarvi di controller, bensì di questo Un ottimo caricatore che ho acquistato su Amazon per 13€ circa 13€ spesi benissimo perché, come potete vedere, permette di ricaricare fino a 3 dispositivi simultaneamente con l'alimentazione di casa Praticamente con la corrente di casa Se, come nel mio caso, avete diverse piattaforme e spesso vi capita di imbattervi nell'odioso problema che il controller è scarico Con questo caricatore risolverete perché quando non giocate lasciate il controller o i controller in carica e quindi il problema non si pone Ora, questo caricatore, come potete vedere, ha due cavi che non potete scollegare Che sono, diciamo, già, tra virgolette, lasciatemi sfuggire il termine, preinstallati E un terzo cavo USB che ho aggiunto io Quindi nella confezione voi troverete questi due E questo lo aggiungete voi via USB Naturalmente non è utilizzabile solo con i controller ma potete caricare tablet, smartphone e quant'altro Come vedete i cavi sono questi Ora, prendiamo in considerazione solo questi due perché il terzo è quello che ho aggiunto io, come vi ho detto Per il controller della Switch I cavi sono questi, quindi uno e due Ora, i cavi vengono forniti in questo modo qua Quindi sono Type-C Però vengono forniti anche di adattatore micro USB Quindi praticamente avete la possibilità di fare questo collegamento E quindi utilizzare i cavi in questione per alimentare il joystick della PlayStation Il joystick della One E il joystick della Switch se avete il cavo USB O lo smartphone, o il tablet e così via dicendo Quindi grazie a questo economico e ottimo caricatore o alimentatore da corrente Potete avere sempre i controller carichi Se siete interessati all'acquisto, che io vi consiglio Potete trovarlo su Amazon tramite il link che vi fornisco nella descrizione di questo video